Musica Carissimi salesiani, coaggitori, salesiani laici di tutto il mondo, che messaggio posso offrirvi alla conclusione di questo settimo congresso dei salesiani laici della regione Asia Est-Oceania? Per me il messaggio è chiarissimo, viviamo bene, con gioia, con entusiasmo, con passione la nostra vocazione salesiana consacrata come laici e come preti. Allora un grande messaggio anche ai nostri fratelli salesiani preti, viviamo bene la nostra identità consacrata. Dentro questa vocazione consacrata viviamo le due forme della nostra vocazione. Grazie. Grazie.